Ciao a tutti ragazzi, bentornati su TheGuardians in un nuovo video Splash. E' arrivato un nuovo emblema! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su TheGuardians, qui Shanks con un video flash appunto per dirvi come ottenere questo emblema. Come il precedente emblema simulazione sonica, falto già col dire che anche questo è esclusiva del Bungie Store. Infatti oggi e per un periodo di tempo limitato vi basterà comprare qualsiasi oggetto, maglietta, collezionabile, insomma qualsiasi cosa, sullo store di Bungie per ottenere il codice per questo emblema esclusivo. I metodi sono sempre gli stessi, andate su Bungie Store, mettete nel carrello quello che volete, io in questo caso ho comprato la maglietta col logo di Rasputin, procedete al checkout e al pagamento e sul vostro indirizzo email riceverete un'email, per l'appunto, con il codice da riscattare su bungie.net slash redeem. Una volta riscattato il codice, il vostro nuovo emblema sarà disponibile su tutti gli account collegati, quindi se avete più account come nel mio caso che ho PlayStation 4, Xbox e PC, troverete questo emblema su tutte le piattaforme ad aspettarvi nel chiosco nella sezione emblemi. Per questo video flash è tutto, da Shanks, passo e chiudo, buon DLC! Grazie! Grazie! Grazie!